Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Altro report metagame per quanto riguarda questo meta Ci stiamo avvicinando piano piano alla fine del mese Vediamo poi se a luglio uscirà effettivamente la Banded Io ormai non voglio più esprimermi nel fare alcune considerazioni Nel senso, eh, a febbraio hanno detto questo, poi a aprile è uscito questo Così come la Banded, no, che hanno fatto gennaio, aprile e luglio per tot tempo Non lo dico più perché se lo dico, sfaldo il continuo, un spazio temporale Succede una cosa, lasciamo perdere, quindi evito Comunque, prima di iniziare, come sempre ragazzi, vi invito a iscrivervi al nostro canale Prima di essere sempre aggiornati, ricorda l'iscrizione ci aiuta tantissimo Mi raccomando ragazzi, è importantissimo Vi ringrazio, detto ciò partiamo ovviamente sempre con la porta dei film degli horror Allora, vince Castira Vince Castira E c'è una moltitudine di Snake Eye Che voglio andare a vedere un attimo così raga Perché sappiamo che, insomma Il mazzo è questo Il gioco è comunque una furici importante, interessante Questo è una Castira Snake Eye Un altro Castira Snake Eye Va bene, non è che ci sia troppo da dichiarare Anche qui un altro Castira Un altro Snake Eye, scusate Un altro Snake Eye Castira E ok, abbiamo Fiorire Fiorire con Runic e Sprite Un altro Castira e Snake Eye Allora, vediamo un attimo It's All Castira Che si ripropone comunque sempre abbastanza classico Niente di stravolgimenti troppo eccessivi Triple Link Spider però Triple Link Spider è carina come soluzione Quindi va bene Triple Link Spider, dimensionale baria Leveling, judgment, lightning storm, troll Ok DHT, shifter, ovviamente Ash Vailer con Impermanence Il 3 per di tutto Tralasciando le triple tattiche Rise Art e il Scareclaw che Ash tira Runic e Sprite for Hire Che comunque la pelliccia mercenaria Era un archetipo molto interessante Che vabbè, dai tempi Passavano a cattivi per fermarlo Però quando parte è abbastanza interessante Quindi mixarlo con un engine Sprite Che comunque è buono Scusate un attimo Da chiudere questa cazzo di porra Scusate Chiedo Venia per... Stavo impazzendo Allora, dicevo Sprite è comunque un engine importante Ovviamente Runic Che secondo me dovrebbe essere un pochino hittato E poi quando faremo le considerazioni del caso Insomma Più che altro perché sta diventando molto pesante Quindi molto pesante Ce lo ritroviamo spesso in molti mazzi Sia stun che mischiata con altro Quindi diciamo che potrebbe essere il suo momento Insulca sh tira 3 per 3 per Ok, questo gioca invece di Biru e Ogre Ok Doppini Spider E Ligard Lizardos Che comunque è un link di tutto rispetto Carta molto molto interessante Ok Poi abbiamo Il Dark Mode Poi si chiudo Cioè Io ne la faccio Snake Eye Ve lo giuro raga Manco lo apro Non serve Infortunamente hanno messo questi così qua Perché Insomma Abbiamo ancora Snake Eye Che si conferma sempre lui Gioca al Mono Della magia Quella che mette Nella zona Spelltrap La prima carta Snake Eye uscita Poi Un altro Va bene Snake Eye Vediamo Voice Less Voice Sprite Standard Unic Tempai Un tempai relativamente economico Eppure Lì Allora Voice Less Voice Molto Vabbè Molto standard Molto standard Non cambia assolutamente Niente Pendulum Graph Ok Va bene Non è Cambia tantissimo Comunque sempre Le stesse Sostanzialmente Quindi non va Cambiare più di tanto Stan Run Runic Sprite Oh mio dio Epiria Però non è male Evoli peschi uno È una volta Per turno Vabbè Però ti devo dire Ah Il reparto musse Vengono entri tutto all'osso L'uno per degli sprite E Va Epiria In 3x Per andare a pescare Ancora di più Card scanner Per andare comunque A Diciamo A aggiungere altre carte Può essere Una soluzione interessante Non lo bello Dopo il messaggio Era di pace Morganite Tributite mostri Gli effetti mostri Non possessi attivati Nella mano Sul terreno Ok Questa Era una trappola Molto buona Mi sa che l'avevamo anche vista Quando facevamo I video sulle carte singole Quelle Budget Che possono Potevano avere del potenziale Quindi è una carta Molto interessante Addirittura In 3x E va a tributare Due mostri Insomma Mostri che poi Riesci a farti Tranquillamente Perché comunque Riesci a calarti Sempre all'extra deck Dei runic Quindi va bene Red Resonator Che ti devo dire Molto buono Anche perché Insomma Fai Oltre agli sprite Peschi Di lei Cioè Fai magari Già questo Questo Peschi Ti setti Tutto il reparto Runic Anche magari Senza Fare tutta la roba Sprite E poi Di questo Blocchi Completamente Un mazzo Vi devo dire Vi devo dire Molto interessante Tempai Dragon Questo è quello Con il prezzo basso Che non gioca A quanto pare L'avevo detto Che comunque Si può giocare Anche Senza Il Tridente Quindi Molto Molto Bene Il mazzo Diciamo Al momento Uno dei mazzi Più economici E più forti Che ci stanno Molto Molto Bene Molto Molto Bene Quest'altra Invece Credo Che lo giochi Perché insomma Oltre ad avere Castira Si lo gioca Gioca al Sombray Destroyer Tipo questo qui Non gioca al Sombray Destroyer Però potrebbe giocare Anche il Quantum Quello da Sai Verso Che rimbalza E fa doppi Attacco Quindi Non è per niente Vale E altra roba Quindi Tempai è un mazzo Assolutamente Fattibilissimo Fattibile Questo ovviamente Classico Con Hitwave E compagnia Suonante Pure lì Altro mazzo Molto Molto Fattibile Gioca Due per Dei mostri Due per Delle ht Tralasciando Uno per Della Glossa Del veiler Il tre per Di tutto quello Può andare In tre per Il due per Di quello Può andare In due per Triple dark ruler Mono droplet Triple cross out Prosperity E ok Va bene Andiamo a richmond Dove c'è Vince Salamagna Andiamo a vedere Quest'altro Salamagna Sempre Con il quartino Speedway Terror Terror Top E ovviamente Il Tectomborg Molto Molto Buono Mi piace Moltissimo Come versione Non è neanche Troppo Costosa Ovviamente Le uniche Carte Che costano Sostanzialmente Sono loro E va bene Hai anche Modo Di giocarti Il sincro Il L'emissario Evoki Ok Non può essere Sotto in qualsiasi Battaglia Ti devo dire Comunque Molto Molto Forte Molto Molto Forte Perché Comunque Non si rompe E Sostanzialmente Oltre a non romper Si vai a bloccare I mostri Da extra Quindi Ci può stare Lobok Vince Snake I cash Tira Anche qui Vediamo Che non c'è Troppo Da dire Ci sarà Tanto da dire Quando andremo A fare La banda De reaction Che sarà Molto complicata Anche questa volta Abbiamo il Tempai Dragon Tempai Dragon Che è Il tridente Salon Get Phoenix Bissial Tre Predi Castira La Pressured Va bene Abbiamo Snake Ad aprire Despia Snake Eye E Labyrinth Allora Branded Despia Ecco L'unica cosa Di Branded Despia Che potremmo Andare a Toccare È Ovviamente Quella Carta Che Che Da un bel po Comunque Sta Dando Veramente Fastiglio Che In realtà L'unica Carta Che dovrebbe Essere Toccata Se provi Di andare A toccare Branded Despia Solo Per la Loc Poi Poi Abbiamo Grisagli E Prison Secondo Il Mosso Scoperto Che Hanno Che Sono Evocati Tramite Tributo Rituale Fusione Fin Alla Fin Nel Torn Dall'avversario Nessun Giocatore Può Evocare Synchro O Ex Ex Non Posso Attaccare Se Effetti Sono Negati Molto Forte In Determine Di Mazzi Abbiamo Anche Un Eldritch Che Vi Devo Dire Secondo Non È Per Niente Ma Anche Come Target Luce Sostanzialmente Aggiunge La Mano Tra l'altro Te lo evochi Pompatissimo E Non Può Essere Rotto Quindi Vi Devo Dire È Una Soluzione Che È Carina Poi Lì Levi Un Magno Al Terreno Ci Vedrò Una Carta Quindi Vi Devo Dire Branded Espy Rimane Comunque Questa Versione Qui Molto Spesso Comunque Possiamo Anche Vederla Diluita Oppure Mixata Con Chimera Però Insomma Branded Alla fin fine È un Mazzo Rispettabilissimo Sia In termini Di Giocabilità Sia In termini Di Trovarselo Contro A Eccezione Ovviamente A eccezione Ovviamente Di Questa Cartina Ma Tra l'altro Qui Non C'è Neanche La Nightmare Quindi Devo Dire Vi Devo Dire Almeno Quella Gelata Anche Perché Non Serve Bandere Nightmare Che Tanto Gli Mettono Vido Quindi Poi Abbiamo Labyrinth Anche Su Mazzo Che Rimane Comunque Nel Compiettivo Che Fa Quello Che Deve Fare Non È Per Nulla Troppo Pesante Ecco Forse Molto Probabilmente Andranno A limitare Floodgate Non So Quanto Dimension Al Buyer Possa essere Andato Potranno Toccarlo Però Insomma Potrebbero Perché Comunque Va a Bloccare Molto Anche Se Io In realtà Non È Che Lo Andrei A Togliere Però Vabbè Vedremo Insomma Io Andrei A Fare Una Un Delete Su Spia Secondo Posto Per Runic Snake Eye Voiceless Synchron Synchron Ci Piace Vediamo Synchron Synchron Molto Figo Stunner Unic Non Ci Abbiamo Un Cazzo Da Dire Anche Perché Effettivamente Dobbiamo Toglierci Questo Stunner Unic In Un Modo Nell'altro Io Non Le Bandirei Magari I Floodgate Li Lascerei In Uno Per In modo Che Possano Essere Comunque Sfruttabili Indeterminati Mazzini Mette Uno Per Uno Per Ci Stanno Sono Fastidiosi Però Si Possono Togliere Sigillo Probitto Della Magia Maledetta È Un Qualcosa Di Assurdo Io L'adoro Come Carta Ovviamente Super Ancient Organism Altra Carta Che Comunque Eravamo Andati A Vedere Quelle Carte Singole Diabelle Sar Adventurer Synchron Ecco Ci Hanno Messo Diabelle Ma Porca Hanno Messo Diabelle Sar Adventurer Pure 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 Ormai L'abbiamo Sorpassato Da un bel Po Il Fatto Di Adventurer Ma Diabelle Sar Cavolo Maledizione Abbiamo Doppio Star Synchron Evolution Synchron Dassol Synchron E Jet Synchron Vi Devo Dire Mi Piace Cioè Non So Questa Questa Sfilza Di Synchron Mi Piace Poi Ovviamente Enchantress Lo Junk Servant Speciale Ok Stardust Trail Ok Poi Abbiamo Ovviamente L'unopeia Del Wondering Grifond Molto Molto Forte Fendrir Witch Bistial Ash Ok Vedete La cosa Tra virgolette Brutta Per andare Ovviamente A giocare Competitivi Bisogna Mischiarlo Con Questi Mazzi Qui Che Tengono Botta Triple Synchron Overtake Che Molto Forte Anterito Non Asynchron Humble Che Poi Abbiamo Junk Speeder Jet Warrior Ascle Synchron Charge Warrior FA Ascle Synchron Stardust Psy Scarlight Crystal Cresciula Beast Pater Sorving Shang Shing Ascle Synchron Crimson Dragon Cavolo Molto Carino Se non è Cosa Ovviamente Gussi Personali Per il fatto Del mixone Però è l'unico Modo Per magari Giocarlo In maniera Più Competitiva Germania Vince Plant Link Sta un passo Avanti Un passo Avanti Despia Despia Chimeran C'è Tempai Snake Voiceless Tempai Quindi ancora Branded Questa Si che è La gioca Gimic Puppet Anche Strappo Possesso Book of Gey Clips Questa è una Grande Trappola Non viene Quasi mai Giocata Triple Fusion Duplication Addirittura Triple È molto Forte È molto Molto Forte Però Triple Non me L'aspettavo Non c'è Neanche Super Poli Va bene Che ti Fai A fare Triple Sestu Branded Fusion Al Limite O altro Però Ti vi Devo Dire Ok Poi Ci abbiamo Tempai Col Santa Clouse Poi abbiamo Voiceless Voice Sempre Buro Tempai Con Kastira E ok Poi Andiamo Avanti Con UK National Championship Vince Despia Secondo Posto Per Plant Link Plant Link Secondo Posto E un Altro Mamma Mi Ho Snegai Snegai Vediamo Se è Sempre Lo Stesso Nell'altro Onnus Decide Ok Un paio Di Castira Di Decide Tempai Molto Molto Economico Un altro Plant Link Tempai Eppure Questo Gioco Progenitor Ma Più Di Quello Lì Comunque La Lista Quella Voice Melodioso Così Poco Tempai Ah Un Tempai Cazzuto Snegai Eppure Lì Eppure Lì Comunque Non è Cambia Tanto Da Dire Perché Anche So Comunque Il Mazzo E Quello Lì Le Tre Linz Si È Molto Forte E Verrà Giocato Molto Spesso Quindi Occhio Ragnarai Ka Plant Link Vediamo Se Comunque Sempre Quella Forma Lì Si Tre Per Uno Per Uno Per Va Bene Di Link C'è Soltanto Link Due Giusto Ok Le Tuttura Rose Whip Che È Baccatissima Vogliamo Mettere Vogliamo Mettere Grande Carta Grande Carta Poi Tre Per Uno Per Tre Per Uno Per Tre Per E Va Bene Ti Devo Dire Grande Carta Poi Abbiamo Il Tempai Questo Che Cacchio Allora Abbiamo Il Laval Laval Perché Laval V V V V Salamander Si viene Guarda Sincro Possiamo Pescare Due Carte Se abbiamo Due Mostri Fuoco Nella Mano Mandiamo Due Carte Dalla Mano Al Cimitero Incluso Mostro Fuoco Altrimenti Riveliamo La Nostra Interna Mano E Meschiamo Nel Mazzo Ok Una Volta Portuna Possiamo Bandire Mostro Fuoco Al Cimitero Per Cambia La Posizione Demostri L'avversario Controlla Il Numero Di Laval Che Controlliamo Coperta In difesa Vi devo dire Molto Molto Buona Molto Molto Buona Perché Comunque Una Soluzione Molto Economica Il Mazzo Praticamente Quasi Tutti I Mostri Fuoco Ovvio Lo Facciamo Quando Possiamo Ovviamente Triggerare L'effetto Che Non è Neanche Troppo Male Perché Rimettiamo La Roba Del Mazzo Vero No Mandiamo Due Carte Dalla Mano Al Cimitero Cacchio Quindi Possiamo Recuperarla Possiamo Recuperare Le carte Ma andiamo Al Cimitero Anche Perché Questo Potremmo Farlo In Battle Quindi Li Togliamo E Mandiamo Quindi Molto Molto Buono Potenzialmente Non dovremmo Scartare Niente Perché L'attiviamo Quando Sappiamo Che Abbiamo Delle Carte Fuoco In Mano Carta Molto Molto Interessante Una Soluzione Molto Carina Soluzione Ragnarica Plantlink Ok Melodiosa Poesie Les Voice Trimonto L'avversario Bene Anche Questa Comunque Una Versione Molto Standard Che Conosciamo Tempile Dragon Con Rage Dark Super Polymerization Duster Manca Solo Tempesta Potente Peccato Che Si Abbondido Se Non Mettevano Anche Quella Che Shift Enter Crew E Va Bene Sinchro Proprio Quelli Necessari Ok Giorano Super Poe Ovviamente Deve Andare Di Target Poi Abbiamo Lituania Che Vince Ancuna Plantlink Da 158 Dollari Sprite Dark World Tempai Snake Eye Snake Eye Non Cambia Niente Sostanzialmente Jubel Orcus Sky Striker E Voiceless Voice Questi Sono Molto Interessanti Ragnarika Plantlink Nella Versione Da 41 Carte Quindi Si Vanno A Togliere Un Sacco Di Carte Si Vanno Praticamente A Giocare Il Minimo Indispensabile E Vince Primo Poi Vince Salviamoci Questa Profile Salviamoci Questa Non Gioga Quello Lì Salviamoci Questa Profile Il Nombro Di Ragnarika Sempre Quello Errai Da Quello Lì Poi Abbiamo Triplo Mono Do Più Do Più È Perché Non Gioca Neanche Ethereum Non Gioca Neanche Ethereum Va Sostante Di Ricca Aroma Sostanzialmente E Vabbè Ovviamente Salavano Per Fare Roba Blossom Crossout Dai L'aspettato Sunbile Soaring Ricca Ok Ricca C'è Resurgent Ok Rosmery Salavano Melias C'è Veramente Mazzo Molto Economico Molto Economico Per me Comunque Sono sempre Soldini 130 euro Sono sempre Soldini Però Nell'ottica Del gioco Competitivo Di Yugi Insomma Sono Soldini Che Vi devo Dire 150 E passa Vi devo Dire Per un Plantlink Così Interessante Vi devo Dire Evil Twin Sprite Evil Twin Sprite Ovviamente Ci dà Un bel Boost Perché Tutti Il livello 2 E il Red Sono Detro Qui È Veramente Molto Buono Abbiamo Le Sprite Double Cross Ok Beh Molto Forte Non Abbiamo Ovviamente Ripartino Nimble Perché Comunque Evil Twin Fa Un bel Po Di Lavoro Quindi Ci piace Ci piace Ci piace Poi Bello Che Comunque L'ho Potevi Pagare 500 Perché Era Bellissimo È Bellissimo E noi Guadagniamo Villano Questo Insomma Ripartito Link Non è Marti Incredibile 12 Eur 89 Vabbè Facciamo Stare Danger Dark World Ok Molto Molto Classico Abbiamo Triplo 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 Doppio Mono Mono Doppio 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 Addirittura Ciò Pagava Doppio Mono Mono Doppio Colano Di lava E Catalyzer Triplo Ok Doppio Dark Corridor Mono Accension Un Archiv Un Trading Cold Triple Dattiche Allure E Distruggi Carte Doppio Doppio Graffa Coach King Mono Mono Ok Land of Goddess Farrucia Nightmare Griffon Che è molto forte Qui Zombie Stein Akashic Magician È fortissimo Qui È fortissimo Seguri di Dragon Molto buono Un altro Silva Cowboy Ok Skill Drain E Virus Molto Molto carino Molto carino Secondo posto 50 euro No Top 4 50 euro Molto bene Tempai Dragon Anche questo Molto economico Non va a giocare Ovviamente Il Trento Va a giocare Selene Perita Ok Cybers Quantum E ok Gioca Tre per di Cascita Quindi è economico Con il Cascita Ancient The Jubal Che gioca Il 3 per Di Veidos Il 3 per Di Veidos Di main Quindi è molto Interessante Anche Vabbè Sì Effettivamente Ci sono tante Terreno Però insomma Tenerlo Addirittura Di main È Particolare Molto particolare Poi Mono Ovviamente Charvara Triple beast Squirmer E il loto Doppio Doppio Triplo Ok Triplo Dark Molto spesso Si gioca Anche Magari Triplo Di Questo Doppio Di lui Ok Interessante Interessante Ma anche Con la presenza Di Di lui Quindi Non male Sky Striker Orcus Ovviamente E partino Orcus Di main Cioè Di mostri È sempre Questo qui Allure Tattiche Va bene Diciamo Insomma Triplo Di lui Ok Mono Triplo Triplo Ok È molto interessante Molto interessante Perché comunque Può andare A dare Parecchi problemi Sky Sky Stragger Prenderà Un supporto Veramente Buono Soltanto Chi non avrà Altri link Sta lasciando Quel link 3 Che comunque Non è che sia Il più forte Di quelli che Hanno fatto Vedere Però Ci dà Il piccolino Che ci consente Di evocare Dal mazzo Con l'altra Insomma Può essere interessante Magari anche Non solo In versione Orcus Che comunque È un bel vedere Però Vi devo dire Voice less voice Molto molto Classico E per concludere Andiamo a vedere Un tier laments Tier laments Destiny Horus Vince Tempai Snake Eye Labyrinth Snake Eye E Triplo Melodiosa Horus Destiny Tier laments Tier Comunque Se la spegne Ha i motori Indiretti Va bene Si conferma Comunque Rimanere Nel meta In tante maniere Sia con Horus Sia con Destiny Sia con magari L'Iceborn Sia anche con Paleo Quindi È un mutaforma Interessante Come deck È un mutaforma Molto interessante Anche con Il repartino Shadow Che comunque Può fare la sua Qui magari Non c'è Però Lo può fare tranquillamente Anche la Shadow Va bene Va bene Abbiamo visto Delle robe interessanti Abbiamo fatto anche Delle piccole Prediction Ovviamente Che non sono Nel dettaglio Per questo Video Non è una Banda Prediction La faremo Credo I primi I primi di luglio Se riusciamo Perché dovrebbe Forse Uscire a luglio Nel dubbio Ci prepariamo Tanto Per me C'è solo un deck Da toccare Al momento E poi Ne discuteremo Ovviamente Con calma Detto questo Ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto A tutti Sì 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 Grazie.